Grazie dottor Firmo, grazie Giorgio, grazie professor Spaggiari e il mio carissimo amico il cui padre è stato mio professore, uno dei migliori professori che io abbia mai avuto, anche il tuo, eh? Eh appunto, professor Burgio è stato una colonna per tutti noi e anche in base ai suoi insegnamenti ho potuto seguire poi le ricerche di cui vi parlerò. Oggi sarò assolutamente essenziale e puntuale perché mi sono accorto che pur facendo molti convegni e parlando di epigenetica, alla fine quando anche voi che partecipate a tutti questi convegni vi trovate di fronte a un malato con Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla, oppure con quelle complicanze della senescenza o peggio ancora con i tumori, poi alla fine vi trovate in difficoltà anche a usare i prodotti biologici che noi abbiamo messo a punto e che possono integrare le terapie tradizionali ma che sono importanti non solo per migliorare la qualità della vita di questi pazienti ma anche a volte per arrestare o far regredire parzialmente le patologie. Quindi se succede questo significa che bisogna andare per gradi e puntualizzare molto bene i concetti perché come dicevi oggi parlano tutti di epigenetica ma alla fine che cosa sia esattamente non si sa. Oggi la medicina ufficiale è entrata di peso anche in questo discorso, prima erano solo manipolazioni genetiche adesso finalmente arriva anche lei all'epigenetica ma se andate a vedere tutti i lavori che vengono pubblicati dalla medicina riduzionista sono lavori di epigenetica, sono lavori che riguardano essenzialmente la metilazione delle basi del DNA o l'acetilazione degli stoni e grossomodo si fermano lì perché poi tutti gli interventi che la medicina ufficiale sa fare è quello di per esempio nei tumori le cosiddette target terapie o peggio ancora chiamate terapie biologiche, l'utilizzo di anticorpi monoclonali che per loro sarebbero biologiche ma dove gli effetti collaterali in realtà poi sono a volte peggiori di quelli della chemioterapia tradizionale, quindi direi che siccome le uniche armi sono quelle lì parlano tutti di acetilazione degli stoni e di metilazione del DNA. Ma questa è solo una piccola parte della regolazione epigenetica che è molto più complessa e molto più vasta ci sono appunto tutti gli eventi di regolazione trascrizionale, cioè della trascrizione, attivazione e disattivazione dei geni, post-trascrizionale, traduzionale e post-traduzionale che non vengono ancora ben analizzati e allora bisogna essere precisi e puntuali e dire appunto che la regolazione genetica è possibile ma sono eventi complessi che richiedono un cambio, come diceva Giorgio Terziani, completo del paradigma scientifico. Se noi non cambiamo la nostra mentalità noi non siamo in grado di capire che cosa succede appunto nella regolazione epigenetica e come questi trattamenti epigenetici possono funzionare. Se non cambiamo mentalità non possiamo fare questo. E allora la fortuna come dicevi è stata di aver iniziato tanti anni fa a intuire che sopra il DNA ci doveva essere un altro codice che oggi chiamiamo appunto epigenetico e tutto questo è avvenuto partendo da un'osservazione molto semplice che riguardava i diversi effetti che le sostanze cancerogene hanno durante la gravidanza. Se voi somministrate queste sostanze nei momenti in cui si formano tutti gli organi apparati non riuscite mai a indurre tumori nella prole, finito quel periodo si inducono tumori nella prole. Allora la domanda era ma perché prima no e dopo sì? Che succede durante l'organogenesi? Che da un unico tipo di cellula staminale totipotente che è l'uovo fecondato attraverso stadi successivi si formano le cellule pluripotenti, multipotenti, oligopotenti e così via fino ai tessuti, 252 tipi di tessuti di cellule completamente differenziate che costituiscono il nostro corpo. L'idea è stata durante questi periodi esistono queste sostanze regolatrici che sono in grado di regolare l'espressione genica. Allora questo concetto era assolutamente eretico, tutti stavano studiando il DNA e la sequenziazione genica, tutti i soldi andavano lì, tutte le attenzioni erano lì e quindi nessuno... Finito la sequenziazione all'inizio di questo secolo hanno capito che questo DNA da solo non sa fare nulla e come l'hard disk di un computer che se non è programmato non fa niente, bisogna qualcuno che dia il programma. Chi dà il programma? Ecco il codice epigenetico. Allora a questo punto la fortuna che ho avuto è stato che non essendo possibile studiare le singole sostanze che potevano avere un ruolo nella regolazione genica ho dovuto affrontare i problemi in altro modo e questa è stata la mia fortuna. Quindi vedete che certe volte gli ostacoli sono delle opportunità. Perché? Che cosa ho dovuto fare a quel punto? Siccome non avevo tutti i soldi per studiare le singole molecole che studiavamo facendo le prime ricerche noi abbiamo utilizzato l'embrione di zebrafish per studiare il modello, come modello del differenziamento cellulare. Quell'embrione noi conoscevamo esattamente più o meno i momenti in cui avvengono i diversi effetti differenziativi, cioè i diversi passaggi da cellule staminali totipotenti, pluripotenti, cioè medioblastola gastro, cinque sommiti, eccetera. Abbiamo studiato tutte queste cose qui, abbiamo preso tutte le proteine e poi non sapendo quale usare le abbiamo usate tutte. Ma questo perché? Perché nel frattempo io avevo pensato una cosa diversa, cioè mentalmente cercando di capire che in che cosa consisteva ogni salto differenziativo, per esempio il primo salto, da cellula staminale totipotente, che è quello della morula, alle tre pluripotenti che sono ectoderma, endoderma e mesoderma. Che cosa succede in quel momento? Succede che da un'unica madre con tre programmi diversi si formano tre figlie diverse, che sono diverse rispetto alla madre e fra di loro, non per un gene, ma per parecchi geni differentemente sequenziati e regolati da questi fattori. Quindi voleva dire che ogni salto differenziativo non può avvenire sotto la regolazione di una molecola, ma di un programma specifico. È un programma di regolazione. Quindi il primo concetto è che se noi vogliamo regolare malattie complesse, come i tumori, come le malattie neurodegenerative, come le malattie cardiovascolari, in cui ci sono varie alterazioni genetiche, noi non possiamo usare singole molecole. O se le usiamo facciamo un intervento diverso. La chemioterapia non si pone il problema di riprogrammare le cellule, ma di distruggerle. Allora distruggerle va bene, ma se le vuoi riprogrammare non puoi usare una molecola, ma devi usare un programma. Quindi primo concetto, usiamo un programma. Allora vediamo un attimo, sì, ah ecco sì, scusa. Ecco, allora il problema qual era? Che intanto bisognava individuare appunto quali erano i fattori che costituivano questo programma. Allora abbiamo studiato, come vi dicevo, l'embrione di zebrafish, il 98% di questi fattori sono costituiti da proteine e il 2% da acidi nucleici con attività regolatoria. Le proteine le abbiamo studiate per lungo tempo, qui addirittura abbiamo fatto, come vedete, la spettrometria di massa e le abbiamo individuate a una a una. Sono le stesse poi proteine del nostro corpo perché lo zebrafish poi ha la maggior parte di proteine che sono le stesse della specie umana. Quindi da questo punto di vista siamo stati fortunati a scegliere quel modello anche perché queste proteine che noi utilizziamo nei nostri prodotti alla fine sono le stesse proteine del nostro corpo. Il senso di questa terapia è dunque che uno si ammala per esempio di tumori o di alzarmi perché non ha più questi fattori di regolazione e non avendoli più non può più correggere tutti i danni a cui, come diceva Giorgio, va incontro in seguito all'inquinamento ambientale, a una dieta errata, a uno stile di vita sbagliato, si ammala e a quel punto non ce la fa più a correggere. Noi gli diamo questi fattori e correggiamo al suo posto. Quindi è una terapia quasi sostitutiva come nel diabete, manca l'insulina, gli diamo l'insulina. Qui è molto più complesso perché non si tratta di curare con una molecola ma come vi dicevo con un programma. E questo è il programma rappresentato dalle proteine che abbiamo individuato già un po' di anni fa. Adesso abbiamo finito di individuare tutti i microRNA che compongono il network che completa quindi quello proteico perché vi dicevo che il 98% sono proteine ma il 2% sono acidi nucleici e sono essenzialmente microRNA. Con l'università La Sapienza abbiamo visto qual è la composizione di diversi microRNA e il loro ruolo nell'intervento di regolazione epigenetica. Abbiamo confermato tra l'altro tutti i meccanismi di azione che già avevamo studiato, cioè in pratica nella riprogrammazione delle cellule tumorali quello che succede è questo. Questi fattori bloccano il ciclo cellulare delle cellule tumorali e poi fanno due cose. Tentano di riparare i danni che sono all'origine della malignità e se i danni non sono troppo gravi e sono riparabili vengono effettivamente riparate le cellule, si ridifferenziano, i marchi del differenziamento sono aumentati, questo lo confermiamo un'altra volta, quindi ecco la riprogrammazione, cioè noi riprogrammiamo una cellula da maligna a normale, primo. Secondo, se le alterazioni sono troppo gravi e non sono riparabili, vengono attivati i geni della morte cellulare programmata e le cellule muoiono. O che muoiono o che si normalizzino, l'importante è che escono dal giro della moltiplicazione. Confermato ancora questo meccanismo che adesso quindi riproponiamo, con l'analisi dei microRNA. Quindi come avete visto, allora lo studio è lungo, ci vuole un sacco di tempo, bisogna capire che è un paradigma diverso, che non possiamo ragionare al modo tradizionale basandoci sulle singole molecole, sui singoli recettori, sui meccanismi puntuali. Noi in malattie complesse, dove ci sono alterazioni complesse, non possiamo affrontare le terapie in modo semplice. Se andiamo in modo semplice non ci riusciamo, nei tumori ancora un po' ci riusciamo, perché con la chemioterapia ci sono casi di tumori che effettivamente... e noi abbiamo dimostrato, tra l'altro, che non è necessario sostituire la chemioterapia quando noi interveniamo, perché abbiamo dimostrato anche che c'è un potenziamento tra i nostri fattori e i chemioterapici. Per esempio il tumore del colon col 5-floruracile, l'attività del 5-floruracile passa dal 35% al 98%. Perché? Abbiamo studiato il meccanismo d'azione. Il 5-floruracile funziona a distruggere le cellule quando sono bloccate in una fase del ciclo che è la G2M, ma solo il 35% di queste cellule sono bloccate lì. Quindi lui distrugge quel 35% e poi bisogna aspettare l'altro ciclo perché distrugge il resto. Se noi gli blocchiamo tutti i nostri fattori, già noi le blocchiamo tutte e poi facciamo la riprogrammazione, poi le facciamo rire, eccetera. Ma se c'è anche il 5-floruracile le ammazza tutte. Ecco perché c'è un sinergismo d'azione e quindi non è neanche necessario sostituire la chemioterapia. Anzi, gli oncologi tradizionali, vedendo i nostri lavori, hanno consigliato loro stessi in un position paper di associare ai chemioterapici questi fattori perché così si potenzia la terapia, aumenta la sopravvivenza, migliora la qualità della vita e così via. Quindi voglio dire, ormai queste cose sono state fatte, i risultati ci sono, li ripeto continuamente ma bisogna andare per punti. Il punto principale è il paradigma scientifico è cambiato, voi non potete curare malattie complesse in modo semplice, voi non potete dare un bit di informazione e dovete dargli un programma. Il programma è questo qua che abbiamo studiato. E adesso però questo programma, andando avanti negli esperimenti che abbiamo fatto, qui ecco sono tutti i risultati sui tumori che ho fatto vedere più volte, è inutile, cioè rallentiamo varie linee tumorali, regoliamo alcuni geni oncorepressori come P53 che lo attiviamo, ecco abbiamo fatto, oppure regoliamo in modo post traduzionale la proteina del retinoblastoma, abbiamo fatto uno studio su 179 casi di tumori avanzati del fegato, abbiamo avuto dei casi di regressione completa che vi ho mostrato tante volte, questo qui per esempio è un caso completamente regredito, questo è un altro caso con tanti noduli completamente regredito davanti di questo passo. E questo qui è l'aumento della sopravvivenza. Ma quello che adesso volevo sottolinearvi che è anche importante è che abbiamo avuto la fortuna di studiare tutte le funzioni del codice epigenetico. Perché? Perché andando a studiare l'attività del codice epigenetico nell'unico momento della vita in cui tale codice è completo, perché regola dall'inizio la cellula staminale totipotente fino ai 252 tipi di tessuti. Quindi attraverso vari stadi di differenziazione noi troviamo tutti i programmi che sono in grado di regolare l'espressione di tutti i geni, di tutte le cellule, di tutto il nostro corpo. Quindi abbiamo in mano il programma che potremmo chiamare il programma della vita, che è quello che la vita utilizza per auto-organizzarsi. Cioè lì ci sono tutte le informazioni di regolazione del codice genetico. Si parte da una cellula in cui tutto il codice non è attivo e viene progressivamente, in modo selettivo, regolato, in modo che ogni cellula differenzia dall'altra, non per il DNA che ha la base che è sempre lo stesso. Il disco rigido non è mica cambiato. Sono i programmi che sono cambiati. Una cellula del cervello, che è una cosa con un dendrite lunghissimo, eccetera, rispetto a quella del fegato che è rotondotta, hanno lo stesso DNA alla base. Che cosa è cambiato? Sono i geni diversamente regolati durante il differenziamento cellulare. Cioè i geni regolati sono completamente diversi. E questo è una regolazione epigenetica. E come capite vanno le regolazioni epigenetiche sulla base di programmi specifici, con regolazioni selettive specifiche e devono essere usati in modo completo. Questo l'abbiamo capito molto bene, per esempio, studiando appunto le cellule staminali normali, in questo caso, questi studi sui tumori ho fatto tutti con la sapienza. Questi studi con le cellule mesenchimali del tessuto adiposo, quindi le cellule adulte, noi stiamo facendo e stanno andando avanti, ma abbiamo già acquisito molti dati, con l'Università di Bologna, l'Istituto del Professor Ventura. Noi studiando queste cellule adulte prese dal tessuto adiposo, abbiamo potuto capire che possiamo regolare il genoma delle cellule alterate in varie malattie in modo da poter curare tutte queste qui, non solo il tumore, ma l'osteoporose, osteatrite, diabete, cirrosi, Parkinson, Alzheimer, maculopatia degenerativa e sudativa, eccetera. E anche, addirittura, abbiamo fatto ultimamente una pubblicazione con l'Università di Bologna in cui il titolo era rigenerazione tessutale, stiamo studiando quindi la rigenerazione tessutale senza utilizzare il trapianto di cellule staminali. Cioè noi possiamo regolare quindi le cellule staminali del nostro corpo e differenziarle senza utilizzare il trapianto di cellule staminali. E questo avviene perché si è visto che gli effetti benefici del trapianto di cellule staminali non sono tanto dovuti alle cellule trapiantate, ma ai fattori che loro producono. I fattori che loro producono quali sono? Quelli che noi utilizziamo e che utilizziamo per regolare in modo epigenetico vari tipi di alterazioni cellulari. In questo caso appunto abbiamo fatto quindi uno studio sulla regolazione per esempio delle malattie neurodegenerative. Vedete qui, di solito si possono affrontare coi trapianti ma noi non l'abbiamo oppure anche nei trattamenti per il rigeneramento dei tessuti. Ecco, noi nel caso delle malattie neurodegenerative abbiamo studiato l'effetto dei nostri fattori sulle cellule dell'ippocampo che sono quelle che vanno per primi in neurodegenerazione nell'Alzheimer. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato le sostanze neurotossiche e contemporaneamente abbiamo utilizzato i nostri fattori e l'altro per controllo. E cosa è venuto fuori? Ecco qui abbiamo capito come funziona la vita. In pratica succede che se noi utilizziamo i cinque o più programmi del differenziamento cellulare per prevenire la neurodegenerazione noi riusciamo abbastanza a prevenirla ma per il 20-25% la cosa non ci soddisfava in modo completo. Allora il ragionamento qual è stato? Ma qui noi per rigenerare i tessuti il lavoro è molto diverso rispetto a quello di bloccare una cellula tumorale. Per bloccare una cellula tumorale noi dobbiamo dargli il programma specifico che blocca la moltiplicazione cellulare e fa differenziare i tessuti. Ma nel caso della rigenerazione tessutale che cosa dobbiamo fare? Noi prima dobbiamo ottenere accesi i geni staminali delle cellule staminali che ancora esistono nel nostro cervello e negli organi e poi differenziare queste ultime in cellule specifiche di quell'organo. Giusto? Che cosa dobbiamo fare? Dargli tutto il programma che la vita utilizza per auto-organizzarsi. A questo punto dandogli tutto il programma, cioè tutte le fasi di differenziazione, otteniamo il 78% della prevenzione della neurodegenerazione. Cambia tutto. Questo che cosa ci dice proprio? Allora, che noi non possiamo pensare in modo semplice a questo punto. Che la medicina purtroppo rispetto a queste malattie complesse, adesso le ditte farmaceutiche sulla neurodegenerazione hanno rinunciato, no? Le ricerche, volevano fare tutte le ricerche sull'Alzheimer, sono un po' fermati perché capiscono che il problema è troppo complesso e non ci riescono. Allora, il limite non è tanto che non si può risolvere, è nella mente che è sbagliata. Il nostro paradigma scientifico, se non lo cambiamo, non va bene. Il paradigma farmacologico va benissimo per le malattie semplici, quelle in fase acuta come le malattie infettive, eccetera. Lì non c'è niente da cambiare, le nostre non fanno niente. Quella va benissimo. Ma se pretendiamo di curare le malattie croniche complesse, Parkinson, Alzheimer, sclerosi multipla, se vogliamo rigenerare i tessuti o bloccare l'invecchiamento, il paradigma è diverso. Questo dovete pensare, questo dovete fare. Se non entrate bene in questa mentalità, poi non riuscite neanche a usare i prodotti che vi abbiamo messo a disposizione. Abbiamo fatto alcuni prodotti, uno per i tumori, uno per la neurodegenerazione che va bene nell'Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla, come terapia complementare. Noi non usiamo dei farmaci e per definizione le terapie farmacologiche riconosciute dal ministero con effetti terapeutici sono quelle che usano farmaci. Qui noi stiamo usando sostanze naturali, sostanze biologiche e quindi sono trattamenti biologici che hanno degli effetti biologici importanti ma non con un meccanismo farmacologico ma fisiologico. Noi che cosa stiamo facendo? Stiamo indirizzando le cellule staminali normali verso il loro normale destino oppure quelle patologiche le riprogrammiamo con questi fattori. Quindi riportiamo le cellule malate o sane verso la loro normale evoluzione e fisiologia. Cioè andiamo verso la normale fisiologia. Quindi non facciamo un trattamento farmacologico, questo sia ben chiaro. Quindi questi sono trattamenti che possiamo definire biologici complementari che in tutte queste patologie complesse. Allora noi abbiamo un prodotto per la neurodegenerazione è efficace però non viene usato perché voi probabilmente siete bloccati dalla paura. Questo è un fatto importante perché tu puoi sapere tutto ma se non capisci bene come funziona tutto poi alla fine hai paura, non lo usi, giusto? E questo è il limite. Allora qui bisogna che noi cerchiamo, che voi ci pensate su, che ci capiamo bene, noi non usiamo sostanze farmacologiche. Quindi gli effetti, cioè poi sono le stesse sostanze nel nostro corpo, voglio dire alla fine noi stiamo usando le sostanze che indirizzano il destino delle cellule, giusto? Questo è quello che dovete pensare e quello che dovete pensare è che noi stiamo usando una molecola, ma l'insieme di molecole biologiche che fanno parte del controllo, che sono le epigenome, che quindi controllano il codice epigenetico e che noi le utilizziamo in modo più o meno completo, non esattamente allo stesso modo per tutti i prodotti perché se no ci sarebbe un prodotto unico eccetera. Questo non, qui sì, volevo farvi vedere la complessità ma non ha, adesso l'abbiamo spiegato in modo più semplice qui, per far vedere come tutto è integrato. L'apnei spiega una parte della regolazione epigenetica ma non è sufficiente per spiegare tutte le regolazioni epigenetiche che avvengono non solo a livello del sistema nervoso ma sulle cellule di tutto il nostro corpo. Quindi tutto è importante come diceva Giorgio, come diranno il professor Spaggiari e tutti gli altri redattori, perché tutto conta nel controllare l'espressione genica. In modo specifico e selettivo contano i nostri fattori, perché quelli sono esattamente i regolatori che sono in grado di regolare tutti i geni del nostro corpo, ma come sapevamo contano la dieta, contano le nostre emozioni, lo stress, cioè voglio dire perché l'apnei è importante, ma l'apnei non basta da sola perché poi tutte le cellule del nostro corpo risentono di altri stress ambientali, diceva appunto Giorgio che l'inquinamento agisce su tutte le cellule del nostro corpo e quindi tutto questo è importante e si chiude il cerchio della regolazione epigenetica. Quindi come vedete stiamo affrontando un discorso globale che richiede un cambio di paradigma completo, voi non dovete più pensare in modo riduttivo e semplice, dovete vedere il problema in termini di complessità. La regolazione epigenetica non è solo l'evento di regolazione della mitilazione o acetilazione, quello è il primo punto della regolazione, poi c'è tutto il resto che è molto più complesso e la medicina ufficiale non sa veramente come affrontarlo perché lo dobbiamo affrontare solo in quel modo lì, utilizzando i programmi e non le singole molecole. Grazie.